Come già vi avevo anticipato nelle scorse settimane sto testando il nuovo tritico di prodotti di gamma Labo Ho già realizzato il video di Dermo 2.0 di cui vi lascio il link qua sopra per vederlo nelle schede E oggi voglio parlarvi di lui, di Sidero, il nuovo Iron Remove che va a sostituire P-Ray nella gamma Ne parliamo subito dopo la sigla Ciao ragazzi e bentornati sul canale in questo nuovo video Oggi come vi ho già detto dall'anteprima voglio parlarvi di Sidero Ovvero del successore di P-Ray nella line up di Lava Cosmetic e degli Iron Remover Lui è un prodotto tecnologicamente molto avanzato Infatti è il primo Iron che riesce a coniugare la semplicità di applicazione di un liquido Con l'efficacia e l'asciugatura prolungata nel tempo di un Iron di tipo gel Ecco voi vi direte come riesce ad ottenere questa cosa Beh è semplicissimo Grazie alla Fluid Reverse in Gel ovvero alla possibilità di Sidero di essere un fluido non newtoniano In base alla forza di taglio che gli viene applicata la viscosità varia Dunque riesce ad essere un liquido all'interno del trigger ma un gel nella boccia e sulla superficie Una cosa molto interessante soprattutto a cui non eravamo ancora abituati nel panorama di car detailing Altra novità molto interessante è che Sidero forse è il primo Iron Remover che si può utilizzare anche in ambienti chiusi Infatti considerando che comunque al 50% in più di materia prima rispetto a P-Ray L'odore è molto meno fastidioso C'è una nota di fragola che si riesce a percepire E considerate che comunque è difficile anche abbattere l'odore in un Iron dove c'è molto principio attivo Infatti più principio attivo c'è più che l'odore comunque in qualche modo deve venire fuori perché c'è più materia prima Ecco quindi qui lo zorbo diciamo viene un po' mascherato e non si ha un prodotto che è così nauseante come magari altri Iron Remover Quindi una cosa molto molto comoda Ecco in ambienti aperti non ci sarà alcun tipo di problema di utilizzo In ambienti chiusi forse dipende di più dal vostro tasso di sopportazione e dalla sensibilità del vostro olfatto Troviamo inoltre un notevole potere detergente e parlando di sicurezza di impiego Cosa che è molto diciamo chiacchierata quando si parla di Iron Remover Ecco qui diciamo che è massima visto che comunque sono assenti completamente sali minerali all'interno della formulazione Che come sapete benissimo vanno a macchiare la superficie quando un Iron Remover si asciuga su di essa Ecco qui non ci sono e tra l'altro sempre una cosa molto interessante per quanto riguarda la sicurezza E' che la contaminazione viene staccata all'origine alla base quindi si va a creare uno strato lubrificato tra la superficie e la contaminazione Che ci permette quindi di asportarla in modo molto semplice evitando anche il rischio di causare altri difetti E' un prodotto davvero molto molto lubrificato e piacevolissimo da usare Voglio terminare questa parte introduttiva citandovi le sue caratteristiche decontaminanti nei confronti del calcare dei depositi minerali Un pochino come purifica non però agli stessi livelli E il suo completo rispetto delle protezioni applicate che siano cere o protezioni più interessanti Quale ad esempio un coating Ecco non ho mai avuto alcun tipo di problema utilizzando sidero su auto protette sia con cere che con nano Veniamo ora alla parte un pochino più interessante del video ovvero al test pratico Oggi vi ho voluto portare due test differenti Nel primo vedremo sidero contro il suo predecessore ovvero contro Pirei Vedremo come lui riesce ad avere una notevole forza detergente e decontaminante in più Il secondo test invece vedremo come riesce a davvero una notevole lubrificazione che quasi può andare a sostituire l'utilizzo di uno shampoo Senza dimenticare l'ottimo potere detergente che ovviamente anche in questa seconda casistica si va a manifestare Iniziamo subito con il confronto Andiamo ora a dividere il cerchio in due parti Nella parte sinistra andremo ad applicare il Pirei mentre in quella destra sidro Come vedete l'applicazione di Pirei è semplicissima Il prodotto è molto liquido e quindi diciamo problemi nella fase applicativa sinceramente non ce ne sono Pirei nonostante comunque all'interno della boccia sia molto denso non ha alcun problema nella fase erogativa Infatti si riesce ad erogare molto bene e anzi se proprio devo trovare un vantaggio di sidro rispetto a Pirei Che il getto può essere diciamo direzionato in modo migliore visto comunque la sua consistenza un pochino maggiore Ma come vi ripeto non c'è alcun tipo di problema nell'erogazione di entrambi Li lasciamo in posa per una decina di minuti e vedete come già dopo questo tempo Pirei abbia iniziato la fase di asciugatura Che soprattutto è visibile nella parte superiore del cerchio che è sottosopra dove difficilmente comunque lo spray può aderire in modo ottimale Caso diverso per sidro dove anche nella parte superiore è sempre ben presente che può essere rispalmato utilizzando un pennello Infatti è necessario secondo me sfruttare le sue caratteristiche di ottimo lubrificante E se noi avessimo utilizzato l'azione meccanica per Pirei sarebbe stato ancora peggio Infatti lui come vi ho già detto ha un ottimo potere lubrificante Ci consente di lavorare anche su un cerchio sporco che non è stato risciacquato ad esempio da un pre-wash Quindi ecco cosa molto interessante Dopo questo primo check dei 10 minuti per evitare che l'asciugatura di Pirei continuasse ho rierogato sia Pirei che Sidro Per far sì che il test comunque fosse il più paritario possibile E dopo circa 20-25 minuti di prova totale quindi dopo altri 10-15 minuti di posa dalla riapplicazione Ho notato queste cose Pirei come vedete stava già asciugandosi di nuovo Mentre Sidro questa volta ha creato una patina che era completamente presente su tutta la superficie Interna del cerchio del canale Come vedete tutta la superficie è completamente bagnata non c'è una parte che sia asciutta E questa è una cosa molto interessante perché ci consente di avere una decontaminazione Che è uguale in tutta l'area che è stato erogato Sidro Cosa secondo me non da poco Considerate poi che comunque questo strato di prodotto che è presente ci consente di eseguire azione meccanica Senza diciamo troppe iste visto che comunque la sua lubrificazione è molto elevata Dopo 25 minuti totali dall'inizio del test diamo una bella risciacquata al cerchio per vedere un po' quello che abbiamo ottenuto E come vedete ecco Sidro è riuscito sia a puire che a decontaminare meglio rispetto a Pirei che è sulla sinistra Come vedete infatti la superficie a destra è molto più pulita e anche comunque toccandola Oltre che ad occhi inutili si sente che comunque la pulizia raggiunta e la decontaminazione sono migliori Segno che comunque tra questi due prodotti è stato compiuto un grande step evolutivo Cosa molto importante Veniamo ora al secondo test di oggi vi metto vi capirei perché in questo test non c'entra proprio niente Allora andremo ad utilizzare Sidro sul cofano di un Apollo Andremo ad utilizzare puro e su questa Apollo non è mai stata eseguita alcuna decontaminazione né chimica né meccanica L'auto ha circa due anni e non è stata utilizzata così tanto e non ha neanche vissuto in zone con molti contaminanti Ad esempio vicino insomma a zone ferroviarie Quindi ecco vedete un po' diciamo queste sono le condizioni al contorno che abbiamo Iniziamo con un bel pre wash fatto con Primus diluito 1 a 10 in boccia quindi alla fine una concentrazione abbastanza bassa Dopo averlo fatto agire una decina di minuti risciacchiamo tutta l'auto per bene e senza asciugare andiamo ad applicare Sidro puro Come vedete anche qua l'ottima nebulizzazione ci consente di essere molto direzionali con l'erogazione Evitando che Sidro finisca su zone non desiderate Vedete come tutte le tracce di ferro vengono individuate nonostante il piccolo tempo passato dall'erogazione Quindi ecco questo a dimostrare la grande quantità di reattivi presenti all'interno Una grande quantità di materia prima Dopo circa 20 minuti dall'erogazione vedete come ancora non ci sia alcuna traccia di asciugatura E come Sidro su un pannello orizzontale come questo come il cofano non si sia praticamente spostato Segno della grande capacità adesiva che ha questo prodotto Dopo 30 minuti come state vedendo con la prova del dito che ho eseguito non ho ancora individuato alcuna traccia di asciugatura Quindi questa cosa non può che essere positiva Ma prima di risciacquare voglio però eseguire un minimo di azione meccanica Con un guanto da lavaggio e sempre diluito una 1500 Per capire intanto quanto lubrificazione ci riesce ad offrire Ma soprattutto quanto uno shampoo come questo sia necessario per rimuovere Sidro E quanta detergenza si riesca ad ottenere in più con un po' di azione meccanica Beh la lubrificazione era così elevata che anche un guanto bagnato con sola acqua Ci avrebbe consentito di rimuovere il decontaminante in modo completamente sicuro Questa è una grande dimostrazione che si tratta di un prodotto molto lubrificato A questo punto è arrivato il momento di risciacquare E come vedete il passaggio del guanto l'ho solo effettuato da una parte del cofano Per capire se ci fossero stati poi problemi in rimozioni Ma alla fine non ce ne sono stati Perché a me il prodotto è venuto via in modo completamente efficiente e veloce Non ho avuto problema alcuno di rimozione Quindi ecco non capisco come alcune persone si lamentano Diciamo della piscicosità di Sidro Per me questa può essere solo una cosa positiva Visto che comunque mi da notevoli vantaggi e disvantaggi Alla fine io non ne ho trovati Veniamo ora a qualche consiglio finale per l'uso Cerchiamo di considerare qualche scenario possibile di utilizzo Visto che comunque il prodotto è intrigante E ha molte potenzialità che forse non è facile sfruttare tutte insieme Dall'esperienza che mi sono fatto Di sicuro vi posso consigliare di utilizzare il prodotto puro Laddove noi dobbiamo eseguire successivamente un ciclo di lucidatura Quindi ecco soprattutto se non conosciamo quante contaminazioni sono presenti sull'auto Quanto la sua vernice sia contaminata Ecco di sicuro l'utilizzo del prodotto puro non può che essere consigliato Ovvio che l'utilizzo del prodotto puro è anche consigliato Sul canale dei cerchi laddove siano molto sporchi Non siano mai stati contaminati Ecco in questo caso è consigliabile utilizzare Sidro Al termine del processo di pulizia del cerchio Non come ho fatto ovviamente nel test di prima Che era solo un test per farvi vedere un po' le differenze con Pirei Ecco quindi quando abbiamo un cerchio molto sporco Di sicuro è bene eseguire un pre lavaggio Un lavaggio, una decontaminazione d'acqua tram ad esempio con Decaflash E poi la decontaminazione ferrosa con considero puro Ecco questo di sicuro è la migliore lavorazione Che ci consente anche di essere molto leggeri e leggiali sulla superficie Ed evitare quindi qualsiasi rischio di causare difetti Possiamo anche utilizzarlo come ausilio lubrificante per il polish Ad esempio per la decontaminazione meccanica con Claybar Io per queste operazioni l'ho utilizzato 1 a 5 E devo essere sincero non mi sono trovato affatto male anzi Possiamo poi diluirlo in funzione delle nostre esigenze Da 1 a 1 a 1 a 4 Ecco di sicuro sui cerchi vi consiglio di utilizzarlo fino 1 a 2 Visto che comunque sono quelle parti che si sporcano più velocemente In modo che è un pochino più intenso rispetto alla carrozzeria Mentre sulla carrozzeria vi posso consigliare anche di utilizzarlo 1 a 4 Per i lavaggi di mantenimento un pochino più frequenti Ecco ad esempio se andiamo ad utilizzarlo su un'auto protetta Ad esempio ogni 5.000 km circa Di sicuro vi consiglio di utilizzarlo 1 a 1 o 1 a 2 va benissimo Tra l'altro nel caso in cui volessimo applicare sull'auto un sigillante Ovviamente l'auto non è mai stata decontaminata Possiamo usare benissimo sidero puro dopo aver utilizzato un pre-wash tipo Primus E poi rimuoverlo con il guant ad esempio come ho fatto io nel test precedente Con sempre diluito 1 a 1.500 Potete anche utilizzare solo un segchio pieno d'acqua Perché alla fine non è necessaria alcuna lubrificazione in più Oltre a quella che sidero già offre In azione ulteriore potete anche aggiungere un lavaggio con purifica Vedete voi insomma in base alle vostre esigenze e alle condizioni in cui l'auto si trova Ecco ultimo scenario di utilizzo che vi posso dire Se abbiamo un'auto che ha solo sporco di tipo organico Possiamo anche utilizzare benissimo sidero come pre-wash direttamente su auto asciutta Poi fare un passaggio di purifica e poi sempre ad esempio diluito 1 a 1.800 Fare quindi un lavaggio 2 pH acido-acido neutro Anche questo si può benissimo fare I posti del visionario di utilizzo davvero ragazzi sono tantissimi E' impossibile alla fine descriverlo in un video Sappiate che comunque queste sue capacità ci permettono di accorciare qualche lavorazione E questo è soprattutto ottimo per chi ha poco tempo da spendere per l'auto O per i professionisti che comunque devono cercare di ottimizzare i loro lavori per rendere il più possibile Prima di terminare con i consigli voglio però parlarvi degli erogatori che vi consiglio di utilizzare Riprendo Pirei e vi faccio subito vedere Allora gli erogatori di lavocosmetica quelli classici senza regolazione di atomizzazione Sinceramente non mi sono piaciuti per l'utilizzo della Fluid Reverse in gel Ho trovato migliori i Canyon e anche i Vela I trigger quelli classici che si possono trovare Ecco entrambi però questi non sono compatibili con la filettatura delle boccette di lavocosmetica Quindi vi consiglio di comprare un flacone ad esempio quelli graduati di Mafra O insomma un flacone e poi gli andate ad abbinare un trigger Ecco con questi devo essere sincero il prodotto ha funzionato in modo perfetto E la nebulizzazione era perfetta altrettanto Mi sono trovato davvero bene Ecco quindi vi voglio anche segnalare questa cosa che ha generato un pochino di confusione ultimamente Siamo dunque giunti ragazzi alle considerazioni finali e alle conclusioni Beh che dire come avete capito da tutto il video il prodotto mi è piaciuto molto Se forse Pirei non mi aveva lasciato nel cuore quell'impronto insomma quel ricordo Ecco lui di sicuro mi è rimasto impresso Un prodotto molto interessante che riesce a fare tutto bene Ma soprattutto riesce a fare bene quello per cui è stato creato Ovvero riesce bene a decontaminare da ferro Per me diciamo le altre sono caratteristiche aggiuntive Però in un contesto reale riescono di molto in alcuni casi anche a velocizzare tutta la lavorazione È una cosa molto importante soprattutto per il professionista o per chi ha poco tempo Tra l'altro per il discorso che riesce a rispettare le cere e le protezioni applicate Vi voglio portare tra un'esperienza personale Infatti 12 mesi fa l'inverno scorso sono andato prima di installare i cerchi Ad applicare una cera, una protezione E alla fine questi cerchi li ho smontati circa maggio, giugno, luglio Durante il periodo estivo quando è finito l'obbligo delle gomme invernali Ecco da quel momento lì io non ho più toccato quei cerchi Sono rimasti sporchi e li ho rilavati per la prima volta e decontaminati Durante i test che ho fatto in questo ultimo periodo Sidero è riuscito oltre a decontaminare e a detergere anche a riattivare quel beading che si era perso E che mi aveva fatto capire che comunque la protezione era completamente sparita Mentre lui invece ha riattivato il tutto rendendola nuovamente visibile Rendendo il cerchio di un bel colore argento brillante Quindi ecco anche questo rispetto delle protezioni è dimostrato da questa cosa Il prodotto come avete visto mi è piaciuto io non posso fare altro che consigliarvelo Se cercate un prodotto che riesce a decontaminare ma anche a detergere Insomma vi ho detto un po' le varie cadiste che se vi ritrovate in ognuna di queste Di sicuro è il prodotto che può fare per voi Fatemi sapere se l'avete già utilizzato o come vi siete trovati Se avete avuto qualche problema o insomma se vi è piaciuto o se non vi è piaciuto Spero che invece il video vi sia piaciuto Se è così lasciate un bel like qui sotto Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche Per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che pubblico Ragazzi come sempre vi arriveranno altri video sempre molto interessanti Ve lo assicuro ve lo prometto Seguitemi sui social vi lascio il link qui sotto di Instagram e Facebook Se volete rimanere un pochino più aggiornati in modo live Seguitemi su Instagram dove pubblico le storie Insomma io come sempre vi ringrazio per la visione E noi ci vediamo prestissimo sul canale Ciao ciao